Sconvolgere, stupire, entusiasmare. Sono i tre principali obiettivi che animano la sezione arte del Festival MacBot 2020, curata dalla bicegliese Federica Soldani, inaugurata ieri pomeriggio nella suggestiva cornice della Darsena di Nord-Ovest con la presentazione del progetto Sculture di strada. Coordinato dal professor Pietro De Scisciolo, il progetto ha coinvolto cinque talentuosi allievi del corso di tecniche plastiche contemporanee dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, i cui lavori sono stati mirabilmente incastonati nel porto turistico bicegliese. Questo progetto nasce fondamentalmente nelle aule dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, quando mi è stato affidato il corso di tecniche plastiche contemporanee e nello stesso corso ho incontrato degli studenti veramente interessanti e con loro abbiamo portato avanti appunto questa idea di realizzare delle sculture che potessero far parte del tessuto urbano senza necessariamente dover avere contatti con amministrazioni o con istituzioni, ma semplicemente un po' come fanno gli street artist, intervenire in quei luoghi che non destano comunque diciamo situazioni di pericolo e quindi intervenire in quei luoghi e collocando delle opere, in questo caso non più graffiti murali ma opere scultorie sul vero senso della parola. Alla conferenza di presentazione di sculture di strada ha partecipato anche il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, il bicegliese Pietro Di Terlizzi, che ha rimarcato l'importanza del connubio con il festival Mac Boat. Si torna a fare dei lavori site specific sulla litoranea, già l'anno scorso sono state realizzate due opere, una di queste la vedete di lato, e invece quest'anno si insiste proprio su questo rapporto tra spazio urbano, spazio come dire legato alla diportistica al mare, con l'aggiunta appunto di questo arredo urbano che è un po' inusuale, non è il solito arredo urbano decorativo, ma è un arredo urbano che vuole un po' riflettere, vuole creare come dire un minimo di criticità, un minimo di dialettica, perché chiaramente è vero che siamo al mare, c'è un disimpegno totale, ma comunque è sempre bello poter immergersi in quella che è l'arte contemporanea. Il prossimo evento artistico di Mac Boat è in calendario venerdì prossimo, con la presentazione di un'installazione scultoria dello stesso professor De Scisciolo presso la muraglia prospicente la banchina di nord-ovest di Biceglia Prodi.